Il Consorzio Spurghisti Associati in Romagna Per aiutare la popolazione colpita dall'alluvione Il distretto sanitario di Vaiano si amplia in casa di comunità Ma resta il nodo del 118 Giornata del rifugiato politico in Bielorussia A Prato una famiglia accolta grazie all'associazione Talaka Gli studenti di tre scuole abbelliscono le pareti esterne del Giometti Cinema Per il concorso Omnia Street Art Buongiorno e benvenuti al telegiornale del giorno di TV Prato Nella notte otto mezzi e dieci operai del Consorzio Spurghisti Associati Sono partiti da Prato e da Firenze per prestare aiuto alle popolazioni della Romagna In accordo con la protezione civile, su richiesta di Anci Toscana Gli spurghisti si trovano a Castel Bolognese In una delle zone più colpite dalla terribile alluvione Che in questi giorni ha messo in ginocchio le province di Ravenna, Forlì e Rimini Siamo stati chiamati a liberare le strade e le case dall'acqua e dal fango Spiega Massimo Durgoni, responsabile del Consorzio Spurghisti Associati In realtà che raggruppa quasi 50 aziende del settore Tra Prato, Firenze, Pistoia, Valdelza e Valdarno Durgoni ha alle spalle l'esperienza di altre tre alluvioni Che negli anni 90 colpirono Asti, Alessandria e Poggio Acaiano Gli otto mezzi attualmente in servizio in Romagna Sono quelli delle aziende Peppino Durgoni e Figli Autospurgo 90, Arno Spurghi ed Altimax Nei prossimi giorni altri spurghisti aderenti al Consorzio CSA Si recheranno nelle zone alluvionate per dare una mano nella gestione dell'emergenza Parliamo adesso di sanità Ci spostiamo al Val di Bisenzio Il distretto sanitario di Vaiano si amplia e si trasformerà in casa di comunità I primi lavori partiranno già a giugno Entro un anno è previsto che nei 9 nuovi ambulatori che saranno realizzati Possano visitare medici di famiglia, pediatri e specialisti della ASL Prenderanno avvio a giugno i lavori al distretto sanitario della ASL a Vaiano La prima parte riguarderà l'efficientamento energetico Entro dicembre partirà invece il cantiere della durata prevista di un anno Per l'ampliamento dell'attuale immobile I 230 metri quadri aggiuntivi ospiteranno un'area di attesa Sette ambulatori medici, due ambulatori per la guardia medica Oltre a servizi igienici per il personale e per gli utenti Nella casa di comunità sarà a disposizione un team di medici di medicina generale Pediatri, medici specialisti, infermieri di comunità, assistenti sociali ed altre figure professionali Prima di tutto ci saranno i medici medicina generale Che è il grande valore aggiunto del progetto della casa della comunità E poi ci sarà l'implementazione degli specialisti Quindi otorino, reumatologo, internista, fisiatra Specialistiche che oggi appunto non ci sono Ma che domani ci saranno anche grazie a una diagnostica Quindi a un ecografo che sicuramente sarà presente Che sarà a disposizione del cardiologo, del fisiatra, del ginecologo Di tutti quegli specialisti che lo usano I lavori di ampliamento del distretto di Vaiano Hanno un quadro economico complessivo di 1.150.000 euro Coperto per circa 700.000 euro da fondi del PNRR Per 383.000 euro dalla regione e per la quota rimanente dalla ASL Quella di Vaiano sarà una delle cinque strutture sociali e sanitarie di prossimità Che saranno realizzate sul territorio della provincia di Prato Oltre a quelle di Montemurlo e Poggio a Caiano E alle due pratesi di San Paolo E presso l'ex palazzina di anatomia patologica del Misericordia e Dolce Per l'ASL Toscana Centro La realizzazione delle case della comunità è un obiettivo prioritario Riuscire a sfruttare a pieno i finanziamenti del PNRR Rispettando gli stringenti milestone A cominciare da quello del 31 di marzo Che abbiamo rispettato per tutti e 63 i nostri interventi Più gli 8 della zona pratese Il presidente della società della salute Simone Faggi E il sindaco di Vaiano Primo Bosi Hanno accolto con favore l'ampliamento del distretto sanitario vaianese Ma sono tornati a sollevare il problema della riorganizzazione del 118 Nell'area pratese Che ha comportato il taglio dell'ambulanza medicalizzata a Vaiano e a Montemurlo Su questo tema occorre rivedere rapidamente le scelte Hanno detto Faggi e Bosi Ascoltiamoli La delibera non è stata applicata in tutto il territorio dell'ASL Centro Noi chiediamo che le istanze che i sindaci portano Siano ascoltate con attenzione E crediamo che sia ineludibile una risposta Riteniamo che il servizio scoperto dall'infermiere Presenti delle criticità Ed è bene arrivare dopo questi mesi di analisi e di prova Penso che sia bene arrivare a una discussione vera Con i sindaci e le comunità di riferimento E adottare i provvedimenti necessari Se questo significa rintrodurre la figura dell'infermiere Noi ci aspettiamo che venga fatta nel più breve tempo possibile Resta il nodo del 118 Quello rimane E' un'altra storia La affronteremo separatamente Però questo è un primo segnale Vogliamo dare alla nostra comunità Di attenzione ai bisogni che nascono dal territorio Adesso la giornata del rifugiato politico in Bielorussia Che si celebra domani A Prato una famiglia con quattro bambini Proprio da quel paese E' stata accolta grazie all'associazione Talaka Fondata da Iulia Ex prigioniera politica Fuggita dal paese in mano a Lukashenko In occasione della giornata del rifugiato politico in Bielorussia Che si svolge domenica 21 maggio Dedicata a tutti coloro che hanno perso la vita In nome della libertà e della democrazia Prato si dimostra ancora una volta vicina ad una causa di civiltà La nostra città ha infatti accolto nel febbraio scorso Una famiglia di rifugiati politici bielorussi Composta da sei persone Di cui quattro bambini E lo stesso ha fatto due anni fa con Iulia Yukno Divenuta attivista di libertà In un paese Quello governato da Alexander Lukashenko In cui i diritti vengono negati E un semplice cenno di dissenso al regime Postato sui social, diffuso nelle piazze Conduce diritti in prigione Sono stata due volte in carcere Una volta una settimana Un'altra volta 15 giorni Il motivo era il braccialetto bianco-rosso-bianco E il colore della nostra bandiera storica Per questi colori in Bielorussia restano la gente E per questo sono stata arrestata anch'io La seconda volta sono stata arrestata senza motivo Sono arrivati KGB a casa Mi hanno portato in KGB Mi hanno messo in carcere In carcere le condizioni delle tutte persone Che sono detenute per motivi politici Sono disumane Attualmente in Bielorussia Ci sono circa 1500 prigionieri politici Ufficialmente riconosciuti E sono oltre 3500 Le persone condannate in processi penali Per motivi politici La causa del popolo bielorusso Di cui si è fatta portavoce Iulia È sostenuta da Cisl e Iskos L'Ucraina ci dovrebbe insegnare Che una politica estera è necessaria Per avere una comunità europea Accogliente, democratica e libera Vicino all'Europa, in Bielorussia Oggi c'è un dittatore Che imprigiona e non dà diritti e democrazia A quel paese, a quei cittadini E oggi è il nostro dovere Essere vicini a sostenere questa battaglia Di libertà e di democrazia Quello che a me preme ribadire È che l'aspetto dei diritti I valori europei Che noi cerchiamo di difendere e tutelare Rappresentano un tesoro inestimabile E estenderli anche in contesti A noi così vicini Rappresenterebbe un tesoro Per un futuro di pace per tutti Un meeting per la manutenzione Del parco autobus Per il trasporto pubblico locale Quella dei manutentori È una figura particolarmente richiesta Sul mercato del lavoro Da qui l'incontro organizzato Con gli studenti all'Istituto Buzzi Ce ne parla Diletta Bezzi Manutentori di autobus cercasi L'appello è stato lanciato Nel corso del convegno nazionale Formazione e tecnologia I giovani e la manutenzione del futuro Organizzato da CAP Che si è tenuto all'Istituto Buzzi Una grande opportunità per i ragazzi Delle classi quarta e quinta E degli indirizzi di meccanica Ed elettronica di Buzzi e Marconi Per approfondire il grandissimo mondo Dei trasporti pubblici E gli aspetti che riguardano La loro manutenzione Nel nostro mondo Ormai è da diversi anni Che quando ci troviamo Parliamo sempre del problema Importante di trovare ragazzi Motivati e competenti Ci siamo chiesti in questi mesi Cosa possiamo fare Per affrontare questo problema E secondo noi una risposta è Mettiamo al tavolo tutti i soggetti Sia i soggetti industriali Quindi i costruttori bus Aziende di trasporti Che utilizzano questi bus E i manutenitori Sia il mondo della formazione Quindi i ragazzi E l'obiettivo di questo evento Non è un punto d'arrivo Ma è un punto di partenza Per creare delle sinergie Fra il nostro mondo industriale E il mondo della formazione L'eccellenza della formazione E da qui partire Per poter nel futuro Far conoscere il nostro mondo Da questi ragazzi E al mondo formativo Che dovrà prepararli Per le sfide future L'evento si propone Come uno sguardo Verso il futuro Per cercare di far fronte All'attuale problematica Di reperire personale Preparato ed interessato Ad operare nella manutenzione Di autobus Un'opportunità di incontro E di scambio di esperienze Necessità e opportunità Tra i soggetti coinvolti Un momento importante Per le imprese Del settore Perché focalizza Un bisogno fondamentale Che è quello di risorse umane Che è quello dei giovani E allora vogliamo In questo convegno Cercare di capire Su quali leve Poter muoverci La nostra esperienza Ci porta a dire Che la leva più importante È quella dell'alleanza Dell'alleanza educativa Del mettersi in rete Perché altrimenti Il rischio è quello Di portarsi via Risorse preziose Allora oggi Vogliamo dare questo segnale Questo messaggio Fare rete È la parola d'ordine Per cui penso proprio Che solo con questa modalità Si possa riuscire A assolvere Quello che è il fabbisogno Delle nostre imprese E adesso un'altra iniziativa Che riguarda Il mondo della scuola Sono 20 I murales Ispirati alla cinematografia In via di conclusione Sulle pareti esterne Del Giometti Cinema All'Omnia Center Le stanno realizzando Gli studenti Di tre scuole pratesi Nell'ambito del concorso Omnia Street Art E noi siamo andati Ad intervistare I ragazzi Alle prese Con le ultime pennellate Ciao Che cosa si ascolta Mentre si dipinge? Sto ascoltando un gruppo Si chiamano Stray Kids E' musica allegra Per caricare Qui vediamo Una mano usata Come tavolozza Si E' giusto per finire Il disegno Perché non ce la faccio più Sinceramente Graffiti Disegni Scritte E murales La creatività Dei ragazzi Sprigionata In mille forme Con un unico Comun denominatore Il cinema Quale fonte Di ispirazione E' proprio questo Il tema del concorso Omnia Street Art Promosso da Omnia Center In collaborazione Con l'ufficio scolastico Territoriale di Prato Che intende Promuovere il rapporto Tra mondo cinematografico E giovane Attraverso la street art Praticamente ho voluto Raffigurare Sia i protagonisti Che gli antagonisti Di tutte le storie Che ho scelto Perché Il tutto è nato Praticamente da una frase Che mi è venuta in mente Cioè il cinema ci unisce E qual è il significato Praticamente Cioè si può essere nemici Quanto si vuole Nelle storie Però alla fine il cinema Cioè vedere un film Insieme Tutti insieme al cinema E' una cosa Bellissima Insomma unisce un po' tutti Così sulle pareti esterne Del giumetti cinema Gli studenti Delle tre scuole superiori Che hanno aderito All'iniziativa Brunelleschi Marconi E Convitto Cicognini Hanno potuto Trasporre in murales I loro bozzetti In tutto una ventina Quelli selezionati E affigura Tre pellicole Della storia Cinematografica italiana Il postino La dolce vita E cinema paradiso Questo lavoro Ha presentato Dei personaggi Psicopatici degli anime Sì degli anime Dei film E ora abbiamo Centro Il personaggio Di Psycho Film cult Horror Poi Joker Patrick Bateman E Quei due personaggi Delle sono Griffith Che è un personaggio Di un anime Che si chiama Berserk Questa opera Raffigura Aponio L'ho scelta Perché mi piace Molto Anche quando ero piccola Quindi rappresenta Un po' anche La mia infanzia Gli studenti Vincitori Tre per il miglior Soggetto E altrettanti Per la migliore tecnica Saranno premiati Con tessere annuali E biglietti Per il cinema Venerdì 9 giugno Sul palco Che verrà allestito Nella piazza esterna Di Omnia Center In occasione Della festa Di fine scuola Organizzata da Radio Bruno All'interno Della manifestazione Radio Bruno Omnia Festival Per loro questa è un'esperienza Nuova Perché loro non avevano mai Realizzato un murales E devo dire che Partendo da dei bozzetti Piccoli In formato A4 Sono riusciti A realizzare I loro lavori In maniera Secondo me Veramente Perfetta Adesso una notizia Che riguarda La pagina Degli spettacoli Perché Albano 80 anni Domani Arriva a Prato Per un grande show Al teatro Politema Organizzato da Fonderia Cult Art L'appuntamento È per lunedì 22 maggio Alle ore 21 Eccezionale performer Albano riparte In tour Con lo spettacolo La mia vita Che ripercorre La lunga carriera Dell'artista Attraverso i suoi Principali successi Una produzione Importante Che attraversa i palcoscenici D'Italia Per unire Attraverso la musica E i biglietti Sono in vendita Su ticket1.it Restate con noi Perché il telegiornale Si conclude qui Ma vi ricordiamo Alle ore 16 Oggi pomeriggio In diretta Dal Palarogai Di Maliseti La telecronaca Della partita Di calcio a 5 Fuzza al Prato Mira Fin Valevole Per il ritorno Del primo turno Dei playoff Di serie B Alle 18 Poi in diretta Dal Duomo di Prato La celebrazione Della Santa Messa Prefestiva L'informazione Torna stasera Alle 20.30 Con il Tg Serale Grazie dell'attenzione Buon pomeriggio 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 Grazie a tutti.